Mister, allora, riavvolgiamo il nastro, tante emozioni, tanta gente, l'ino della Serie A per la prima volta allo stadio e poi una bella partita che la sua squadra fino alla fine ha tenuto in bilico trovando questo gol che dà grande speranza per il ritorno. Sì, diciamo che la cosa che oggi mi rende più felice è il fatto che la mia squadra sia stata all'altezza di tutto questo che hai appena elencato. Non era semplice perché nei ragazzi l'aspetto mentale è fondamentale. Già dall'anno scorso ci stiamo preparando a delle partite importanti e piano piano ci siamo avvicinati e direi che oggi abbiamo raggiunto un buon livello quindi oltre al risultato molto importante che ci dà ancora qualche speranza per il ritorno devo dire che il risultato che abbiamo raggiunto per quanto riguarda la crescita di questa squadra oggi è veramente eclatante perché comunque ho visto giocatori molto maturi che non si sono mai disuniti contro una squadra molto forte hanno veramente giocato a pari livello e quindi è stata una bella partita. Dopo un buon primo tempo in cui Lentella ha provato a fare la partita trovando anche delle buone occasioni è arrivato il gol della Roma proprio per lo scadere. Poteva essere quella una pugnalata da K.O.? Sì, come ho detto prima, il fatto che hanno saputo reagire comunque su un'azione anche abbastanza dubbia nel senso che poteva starci in rigore però tre minuti prima ce ne poteva stare uno anche per noi quindi poteva essere una mazzata. Invece devo dire che negli spogliatoi ci siamo un pochettino messi a posto ho cercato solo di lavorare sulla loro testa e sull'importanza di non smarirsi perché comunque la partita durava ancora una partita e mezzo a quel punto quindi loro invece hanno reclutato molte energie in quel riposo lì e devo dire che nel secondo tempo anche grazie a chi è entrato e anche grazie ad alcune situazioni che siamo riusciti a modificare abbiamo messo veramente in difficoltà la Roma. Gli allenatori vivono di risultati ma anche di scelte a cinque della fine è tolto Casagrandi e messo Semprini? Perché io conosco la mia squadra perché io conosco anche la forza che mi dà la gente che purtroppo non ha trovato tanto spazio e quindi Mauro aveva fatto una settimana molto intensa una settimana molto bella e era stata una scelta dura come pure per i cinque ragazzi che oggi purtroppo ho dovuto mandare in tribuna però questo è lo spirito di questa squadra quindi forse siamo stati bravi e fortunati nel essere un pochettino spregiudicati in quei cinque minuti però ci siamo sentiti di fare così. L'ultimissima cosa non cambia tantissimo sotto la preparazione della gara di ritorno perché comunque la squadra dovrà andare a vincere a Roma adesso? Sì sì non cambia tantissimo e questo lo sappiamo comunque quando poi le imprese sono più difficili forse c'è più gusto nel provare a raggiungerle quindi la Roma era per noi un gigante prima di questa partita lo rimarrà ugualmente la cosa positiva è che non lo vediamo più grosso di quello che è però la cosa positiva è che non lo vediamo più grosso di quello che è